No, però siamo in un'attività, invece che siamo a cavallo. Ehi, ma no! Stiamo facendo la ricerca. Allora, scusami, non si è adorato. Sando? E ora ascolteremo dalla voce sonora e canora di Pino Rush. Sì, vabbè, basta ora, vogliamo, è tutta la passata. Vieni un po' al massimo. Vieni un po' al massimo. Vieni un po' al massimo. Perché il vent è musa che c'è di. Vieni un po' all'interno. Vieni un po' al massimo. Vieni un po' al massimo. Ciao Mario! Ciao, ciao. Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Gara? Oppure 10 formaggio? Mese il chi? Oppure 10 formaggio? Perché formaggio in questo senso... ...che è? Miau, miau. E beh, Pietone! Pietone l'Africano! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Chi è? Chi è? Ecco, G.B. Monti. G.B. G.I.B. B.I.C. Chi è? Ecco, G.B. Monti. G.B. G.B. G.I.B. B.I.C. Non aspetta. Paolo, prima o poi esci allora. Dario, esci! Esci? C'è, fuori! Dario, basta! Che bei piedi! Basta! Accendi la luce e non si vende un tubo! Ah, che dai. Ch-g. Ha, 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 ha! Ah, no, no! La ucc temples! Si vende un tubito, che vai da Barat. Ah, ho, ha il v leider di Catè half-elastro! Ah, ha, ha ha! Così, si vende un tubito! Si vende un tubito! Edaro Ci saluto questo… Sì Sì Dora Sì 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 Allò Grazie. 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 Miraviglia che non mettevi nulla. Grazie. Grazie! Dai, candaci la vet儿Glia. Non canto appenre sluts. Quindi, ti deve prendere? Non buce bene... Siamo cercate. Per adesso offre l'ultimo! E' lì se... ela dover essere seg추ati. Sono ok, che verrà... E'. ... Salvista con schönesimo. Básico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.